...vecchi, papite! Allora, sull'anno dello scrap, da le due atlete, vai buone, vai vai! ...siamo misurando il 200 metri attracciato, siamo agli ultimi metri per loro nella maniera di temi, 21, 0 per 6, andiamo con la traccia del cellulare. ...siamo! Fatti 10, 2, 3... ...vai sei, poi hai sotto un grosso italiano per loro! ...siamo a mettagagara all'ultimo curlo da avere depura tre, vediamo i freddo che diranno a scundare. Andate a 339, 20, 690, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Guardate le due o tre temi in casa che si vanno a comportare su questi due cento metri. Elena, Carolina, andate a gara e vedremo a guarda quali saranno i loro tempi. E ecco il massaggio della data numero 46, 21, 23. Sì, partite! Ehi, scherzini, prendiamo un po' le ralle. E da quei tempi? il numero 76 il numero 76 76 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16